ultimo appuntamento dedicato alla nostra rubrica dedicata alle start up ma soprattutto ai giovani ai progetti da realizzare sul territorio siamo insieme a digo design ma nella fattispecie a matteo giulia e paolo iniziamo da paolo paolo dove nasce il progetto perché nasce e allora il progetto d'ego design in realtà nasce da un'amicizia di noi tre diciamo inizialmente disgiunta io sono l'anello di congiunzione matteo studiava in spagna e a londra relazioni internazionali giulia studiava firenze design e io a roma legge e io e matteo da sempre avevamo immaginato di creare qualche cosa che fosse un brand di lusso ma di nicchia una cosa che ci permettesse di entrare in contatto con le persone attraverso un prodotto giulia è una designer del prodotto e si occupava di stampa 3d e quindi abbiamo deciso di unire la questione di un brand di nicchia con la stampa 3d facendolo in modo sostenibile con dei materiali incredibili ho parlato di questa cosa a matteo ne ho parlato a giulia ci siamo messi tutti insieme il progetto è partito allora per quanto riguarda la fuga di cervelli io non sono d'accordo nel senso che sono uno di quelli che ha studiato anche all'estero quindi ha visto la spagna ha visto la realtà inglese e credo che in realtà tutto quello che io ho visto ma come anche tanti altri ragazzi debba essere poi riportato in italia per creare e aggiungere valore a quello che già si ha oppure quello che si vuole creare per quanto riguarda noi noi crediamo firmamente nel made in italy in quanto è un brand aggiuntivo che si aggiunge alla al nostro prodotto quindi diciamo valorizza ancora di più le nostre creazioni all'estero dove praticamente il nostro mercato si concentra e oltretutto credo che le persone anche i ragazzi giovani come noi che hanno voglia di fare hanno voglia di creare qualcosa dalle basi nel loro paese debbano essere anche incentivati da questa cosa e devono essere consapevoli soprattutto di quanto vale veramente ancora il prodotto made in italy fuori da quei nostri confini allora come viene prodotta una scultura da ego design intanto utilizziamo come materiale il pla che è un prodotto di derivazione dal mais lo lo selezioniamo accuratamente sia per materiale che che per cromatismo e tramite i nostri macchinari lo plasmiamo e gli diamo una delle nostre 24 forme il tutto avviene senza emissione di nessun tipo e non finisce nel nel singolo prodotto l'esperienza da ego design in quanto anche la parte del packaging e dell'imballaggio è tutta completamente biologica e naturale dall'imballaggio di di protezione alla confezione che si costituisce di un sacco di uta o di lino a seconda della della taglia del prodotto nostra esperienza è stata quella di tre famiglie con background diversi tra loro che però secondo me più che credere nell'idea hanno creduto in noi perché comunque siamo da sempre stati ragazzi piuttosto responsabili sia nello studio che nella vita in generale e l'idea di prendere e inserirci in un campo dei squali come quello dell'impresa oltretutto in italia oltretutto a quest'età direi che è una una dimostrazione sia di responsabilità che anche di non so come dire di integrità nei confronti degli aspetti lavorativi vari noi abbiamo creduto nell'impresa perché era una cosa forse non facile e che però ci dava la possibilità di dimostrare noi stessi agli altri che cosa volevamo fare quello che facciamo è quasi pionieristico perché la stampa 3d nasce poco dopo che siamo nati noi essenzialmente e quindi l'idea di ampliarla ampliarla col made in italy ampliarla in un momento in cui la sostenibilità e noi parliamo di sostenibilità da prima che vada di moda adesso va ancora più di moda per così dire ma è una moda positiva perché c'è un interesse vero alla transizione ecologica e a tutto ciò che sostenibilità significa questo secondo me è un impegno che vale il rischio d'impresa matteo un'esperienza da rifare da consigliare da rifare al mille per cento sin dall'inizio chi un consiglio che darei ai miei coetanei la avere fede perché comunque avere le aperte le potenzialità del prodotto esserne coscienti sapere le proprie capacità essere consci di quello dove si vuole arrivare è la base di partenza però avere anche credere fino in fondo anche nei momenti appunto come diceva paolo prima del covid nonostante le chiusure tutto mai mai demordere credere sempre nel progetto che avete iniziato l'esperienza di vivere con due uomini o vivere professionalmente con due uomini io direi esperienza passata allora io siamo il pollice assolutamente ma io questi due non li cambierai con nessuno e mi ricollego alla domanda che hai fatto a matteo un altro consiglio che potremmo dare alle generazioni che vogliono aprire un'impresa è di scegliere le persone giuste io mi sento di consigliare questo e nella nella mia esperienza non potevo scegliere persone migliori per quanto riguarda i nostri prodotti nasciamo con ecommerce e in realtà abbiamo anche una una evoluzione sia come ecommerce che come fisico cosa che non credevamo la scelta di di essere ecommerce è una scelta fatta in ragione del fatto che così saremo potuti arrivare più rapidamente a chiunque perché i negozi fisici soprattutto in italia con la questione tassazione già la questione impresa sono complessi quindi diciamo che ci trovate online ci trovate in fisico e ci troverete anche in futuro con un tempo radio shop ma che nei luoghi dove ci trovate trovate prodotti italiani di qualità attraverso il video